Napoli, ricettazione di oro e preziosi, ai domiciliari tre pregiudicati, il primo nucleo operativo metropolitano della Guardia di Finanza di Napoli, al termine di una complessa indagine, ha eseguito nel capoluogo, tra i quartieri Pendino, Monte Calvario e Avvocata, un'ordinanza di arresti domiciliari nei confronti di tre soggetti indiziati di ricettazione di oro e di altri preziosi. Contestualmente, sono state effettuate perquisizioni presso diverse attività economiche, riconducibili ai responsabili e operanti nel settore del commercio dell'oro, intestate a loro prestanome, grazie ai riscontri operati nei confronti dei clienti. Circa un centinaio, è stato possibile acclarare l'utilizzo di documenti di riconoscimento di persone ignare o conniventi al fine di certificare l'acquisto di ingenti quantitativi di oro da parte della medesima società. Ai tre soggetti colpiti da misura cautelare sono state ricollegate anche condotte di ricettazione di denaro, oro e altri preziosi, acquistati anche presso le vele di scampia, nonché da altri rivenditori napoletani operanti nello specifico settore.